ciao alessandro come stai scusami mi rendo conto di essere stato pessimo in questo ultimo periodo non ho dato notizie di me non ho potuto condividere con te le cose e per questo mi scuso è giunta quindi l'ora di riaggiornare e riaggiornarti su ciò che è stato negli ultimi due mesi mi sono recato in polonia misk masowiecki di genova savia per un'esperienza all'estero prima ancora ho insegnato l'italiano a monfalcone a un gruppo di russi provenienti da cialiabinsk e prima ancora c'è mancato un soffio che mi trasferisse in bosnia-rezegovina a sarajevo per quanto riguarda te ciao